Ho pulito la finestra a microfibra scala CIF. Vetri verde e bianca azzurra. La polvere si è depositata sul vetro dopo la pioggia. Per il vento e la finestra. Era sporca. La polvere. Di cosa si sporca? Tutte queste polveri sono nocive per l'uomo. Possono uccidere l'uomo e anche la donna e il bambino. Forse pure gli animali. Insomma la polvere può ridurre in polvere ogni essere vivente che respira con i polmoni. Che si ammalano e causano la morte dell'uomo e anche la donna e il bambino. Precisa. Essa ha un comportamento che non si capisce. Se sia di un solido, non granulare o più fluido o non toniano. La polvere è piccolissima, è vero, ma fa male al clima e alla salute degli esseri umani. Però sulla finestra non c'è la polvere interstellare che provoca la luce zodiacale e che ne è considerata il precursore dei sistemi planetari. E non so cosa siano queste tecniche, cosa significhi la scorrevolezza di un testo. Però sono certo che anche io un giorno, spero vicino, tornerò polvere. E non vedo l'ora di arrivarci per conoscere la polvere a volte molto poetica all'alba e al tramonto. La polvere si sposta nell'aria e scorre e ci sono diverse tecniche per misurare la scorrevolezza, come se polvere fossero le parole di un testo e ci sono diverse tecniche per misurare la scorrevolezza. La polvere a volte è una foto malefica a terra, la polvere a volte anche presenti, i porti, i porti, i fiscori, l'introsione, i osferici, i polveri, i chitti, i visi, la polvere a volte è antropi, i tumori, smog, i nebbie, i motori, i autocardi, i automobili, i aeroplani, i navi, i treni e forse anche astronavi. Termosifoni, caldaie, i caminetti e forse anche sigarette, manto, asfalto, freni, gomme, autovetture, officine, cementifici, cantieri, aziende. Cosa ci sarà dopo la polvere? Forse le finestre di qualcuno che le pulirà dalla polvere?